Lunedì 26 agosto allo stadio Lunezia a Pontremoli ci sarà una partita importantissima, la partita del cuore e il capitano di una delle due squadre, la Lunisiana Sol, sarà Zucchero che è qui con noi. Ciao Zucchero! Ciao, ciao! Capitano è una parola grossa, però veramente dobbiamo aiutare la ricostruzione di due scuole di due paesini, Monzone e Casola, della Lunigiana che sono state danneggiate dal terremoto e quindi io vi aspetto tutti alle 18.30 lì allo stadio di Pontremoli per la giornata del cuore perché oltre alla squadra, la mia squadra che avrà, devo per forza mettere dentro dei calciatori veri avremo anche artisti, cantanti, attori e dopo ci sarà una cena con Asta sempre per aiutare con una jam session improvvisata eccetera. Quindi se volete venire e così date un vostro piccolo aiuto. Naturalmente vi aspettiamo numerosi, possiamo già a Zucchero anticipare qualcosa sulla formazione che scenderà in campo per te, magari ci sarà qualcuno a te familiare? Beh posso dire, non so, nella mia squadra ci sono glorie, leggende come Paolo Rossi, come avremo Mauri, avremo Mussi insomma calciatori veri. Più ci saranno altri musicisti che suonano con me, altri, c'è Fio Zanotti, c'è Ruggeri, c'è Pupo insomma stiamo cercando di mettere insieme una cosa un po' variopinta Noi vorremmo vedere anche un altro fornaciare in campo, ci sarà? Tuo figlio? Ah mio figlio blu, sì, beh devo farlo, insomma vorrei farlo giocare anche perché lui è appassionato ci mette, sai, tutto l'impegno di un ragazzo di 15 anni, siamo a casa, giochiamo in casa e va bene Tu quanto giocherai? Ti va di giocare tutti e due i tempi? Non ce la farò neanche a fare mezzo tempo, io ci provo l'altra volta ho fatto tutti e due i tempi, poi sono stato strappato per circa due settimane ma insomma ci siamo divertiti e poi è importante È una partita importante, lo scopo l'abbiamo ricordato, lo diciamo ancora, la Lunigiana è stata duramente colpita dal sisma lo scorso giugno e questo è un momento di grande solidarietà che serve appunto per costruire e ricostruire due scuole quindi segnatevi questo appuntamento lunedì 26 agosto, Stadio Lunezia alle 18.30, la partita del cuore Grazie a Zucchero Grazie a voi, grazie